Allora, su questo non avevamo il minimo dubbio, perché sulla accettabilità della situazione è chiaro, siamo di fronte a degli impegni che sono sempre in emergenza, perché le navi arrivano così, fra tre ore arriva la nave, 32, 40, 80, 100, i numeri sono molto alti, spesso, due, trecento, quattrocento, poi a Pozzallo è stato anche attivato un secondo hotspot che è capace di 600-700 persone. Quello che è importante dire è che si tratta di strutture, la dice la stessa parola, hot, cioè sono cose immediate, ma non sono punti di accoglienza dove possono stare i migranti per una settimana, due settimane, sono proprio la prima accoglienza e poi bisogna fare in modo che vengano in qualche modo distribuiti non solo nel territorio nazionale, ma anche in tutto il territorio, almeno europeo. Nella questione sono spesso entrati i sindaci di città del nord, come in Emilia, come in Veneto, come in altre realtà e chiaramente lì non sono assolutamente d'accordo, io ho delle interviste che poi vi faremo vedere, non sono assolutamente d'accordo, però loro dicono che non ce la fanno più, cioè che non c'è la possibilità di accettare tutti questi numeri e quindi bisognerà trovare una soluzione. Non so quale possa essere secondo loro, però loro dicono questo. Una soluzione bisogna trovarla certamente per quello che sta accadendo in tutta Italia, dal nord al sud, ma ultimamente proprio in Sicilia ci sono stati due o tre di episodi così tristi, cioè di femminicidi, donne uccise dal convivente, dal compagno, dal marito che poi magari si suicida, voglio dire è proprio una esasperazione, però dobbiamo fare in modo che non si arrivi a questo. Allora abbiamo questa intervista con il responsabile della rete zero molestie. Sentiamo.